Sono passati ormai 20 giorni, 20 giorni in cui Bitcoin si è fermato sul suo livello di resistenza a 25.000 dollari circa, ne abbiamo parlato, straparlato di quanto è importante coincide la perfezione con quello che è il massimo, l'ultimo rilevante di agosto, quindi di ferragosto 2022, se lo supero non lo supero, oggi andiamo a vedere una serie di grafici, però il mese di dicembre la parte finale è il mese di gennaio, che è stato uno dei mesi con i pump migliori e più importanti di Bitcoin nella storia, anche se non sembra comunque un pump del 40%, ovviamente degli ultimi anni ragazzi, poi quando era più sottile Bitcoin saliva molto di più, però questo pump ha dato la possibilità a una indicazione di verificarsi, cioè ha dato la possibilità al Golden Cross di entrare in azione proprio pochi giorni fa. Che cos'è il Golden Cross? Per chi non lo sapesse, per chi è neofita, è l'incrocio tra la media mobile a 50 periodi con la media mobile a 200 periodi, è un'indicazione che viene utilizzata spesso e volentieri dai mercati istituzionali per dividere quelli che sono dei trend di mercato che sono long da trend di mercato che sono short, quindi mercati rialzisti da mercati ribassisti. Che cosa succede quando Bitcoin fa il Golden Cross? Quali sono i dati statistici? Che cosa ha fatto durante il Golden Cross? Cosa è successo nell'ultimo Golden Cross? Dove è andato a finire? Quali sono i target? Dove è arrivato? Poi faremo una serie di analisi anche su un sistema che vi faccio vedere tutti i dati con i profitti che è andato a realizzare, poi vi spiego una chicca che qualcuno di voi si ricorda sul concetto che il Golden Cross su Bitcoin andrebbe leggermente modificato e vediamo se cambia anche qualcosa. Tutto sarà fatto su dati di natura quantitativa con uno script in Pinescript di TradingView, andiamo a vedere i dati, che cosa aspettarci, ma prima di fare questo iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ovviamente lasciatemi i pollicioni di mi piace ragazzi e poi un'altra cosa. Più vi iscrivetevi al canale più lancio la moneta e diciamo che... Oh mio mio, mi distrugge la moneta. Non dico niente, va bene, andiamo avanti. Allora ragazzi, prima di ogni cosa andiamo a vedere che cos'è il Golden Cross, ho preparato il grafico con voi in maniera molto semplice, poi banalissimo ragazzi, quindi non ci perderemo tempo e ve lo dico già da subito. Il Golden Cross è questo incrocio di le due medie mobili, preparate le due medie mobili che sono a classiche a 50 periodi e a 200 periodi e le mettete sul grafico di TradingView. A questo punto si vede in maniera molto chiara e netta che nella giornata del 6 di febbraio è scattato il Golden Cross, quindi all'opening della giornata del 7 di febbraio martedì, quindi ieri, è scattato il Golden Cross. Teoricamente è una strategia che utilizza il Golden Cross, deve andare long, quindi comprare, andare in buy nella giornata proprio di ieri, quindi alla chiusura della giornata di ieri. Molto interessante questo tipo di approccio, vi faccio vedere già proprio come l'operazione di Pinescript codificata va a fare un ingresso proprio alla chiusura della giornata di ieri. In realtà è sbagliato, c'è un problema di natura algoritmica, cioè di natura di software, perché teoricamente il Golden Cross è avvenuto prima, ma la macchina se ne accorge a chiusura della candela, quindi aspetterà un giorno in più. Vabbè, questi sono dettagli, diciamo, tecnici. Ogni tanto cambiano qualcosa, ma non nel lungo periodo. Allora, andiamo a fare una cosa. Questo Golden Cross, ragazzi, ve lo faccio vedere, con la macchina operativa. Intanto ringrazio Giovanni, uno dei nostri membri Academy, che mi ha velocemente dato questo codice che aveva scritto lui perché volevo fare questo video, quindi grazie Giovanni, sempre iper disponibile, quindi è un codice suo, ma è anche scritto molto bene in codice di Pines, ma ha fatto... queste sono le operazioni che appunto un Golden Cross avrebbe fatto sia short che long, quindi qui sono state indicate, ragazzi, sia le operazioni long, vedete, di quando vanno, che quelle short, di quando il mercato è entrato short. Dopodiché sono stati messi un po' una serie di parametri che adesso vi faccio vedere legati al Money Management per ottenere quello che è stato il risultato interessante, che ve lo faccio vedere anche qui, cioè un profitto netto, vabbè, di 191.000 dollari, 956%, con un capitale investito abbastanza basso, perché, ragazzi, non ho utilizzato un capitale molto importante, bensì il 30% di 20.000 dollari, quindi non ho fatto una... non ho investito, ne ho investito gli utili, ma è una strategia estremamente prudenziale per stabilizzare un po' la curva, quindi ipotizzando che noi avessimo 20.000 dollari di capitale all'inizio, nel 2013, quando ho iniziato a fare i calcoli, utilizzando la tecnica del Golden Cross, quindi andando long, quando le due medie incrociano e short, quando le due medie incrociano dall'altro lato, quindi fanno... incrocio il death cross, si chiama così, si portava a casa questo rendimento. Rendimento che però non viene dagli short, ma viene solo dai long. Io ho voluto comunque provvedere anche il lato short per darvi una serie di dati, vedete? Ecco, vi faccio vedere il lato short che porta a una perdita di 10.000 dollari, ovviamente non è rilevantissima, quindi rispetto ai 200.000 dollari del guadagno, però questa perdita di 10.000 dollari cosa ci indica? Indica in pratica che il lato short del Golden Cross non funziona su Bitcoin, perché Bitcoin ha un bias realzista, quindi sale tantissimo, quindi è molto più performante il Golden Cross. C'è da dire, riamanti dell'analisi algoritmica, che le operazioni effettuate a questa macchina sono only 15 operazioni, questo significa che a livello di significatività statistica siamo non bassi, ma nel nulla più totale, perché nella significatività statistica servirebbero 400 trade. Però in linea di massima su orizzonti temporali di questo tipo e con un Golden Cross non si può avere quel tipo di logica, a meno che un asset non esista veramente da 100 anni. Perciò non è possibile, non sarà mai possibile su Bitcoin, diciamo, per tantissimo tempo, perciò non ha senso ragionare così. Analizziamo invece quelle che sono le logiche che sono sottostanti a questo concetto. Sono anche evidenti dal grafico che mi faceva piacere, insomma, andarvi anche a mostrare. Per esempio, ragazzi, vedete, solo quando inizia una fase di bear market, gli short di Bitcoin hanno un senso, cioè le uscite che vengono indicate, come in questo caso per esempio qui. Intanto vedete come il ritardo dell'incrocio delle due medie sul prezzo è terrificante, perché vedete quando per esempio qui ha incrociato la media, lo short selling e quindi la chiusura delle operazioni, o short selling se addirittura fate proprio l'inversione, quindi chiusura e andare short. In questo caso è avvenuta a prezzi praticamente irrisori rispetto ai massimi raggiunti che è avvenuto, insomma, intorno ai 6.000 dollari. E dopodiché tutta questa fase di short è stata sempre in perdita la stragrande maggioranza del tempo, tranne fino all'ultima gamba che è andata giù, quindi in sostanza è stata in perdita per più di un anno e mezzo. Perciò come vedete gli short su Bitcoin non sono mai estremamente performanti, anche perché qui venivamo da uno super bull run. A differenza la bull run, per esempio, il più importante trade di questa strategia è avvenuto proprio nel 2015, dove fa un golden cross e guardate che cosa combina con un solo golden cross il mercato, cioè sale sempre fino al 2018, al bear market del 2018. Sennò che anche poi nel 2019 avviene la stessa cosa, golden cross, up, e poi però nel 2019 ci sono stati, diciamo, una serie di fake che vedete qui in questa zona perché il primo annuale del 2019, 2018-2019 non era bull, ma è stato un annuale diciamo in trading range, ecco, diciamolo così, anche se non è proprio corretto perché è un annuale sempre rialzista, però è stato un po' in trading range. Dopodiché il vero golden cross è avvenuto qui nel maggio 2020 e ha sancito poi il super pump, che ancora una volta, come vedete, poi è uscito troppo tardi, quindi intorno ai 35, poi c'è stato un nuovo ingresso, una nuova uscita, ecco, questa uscita, per esempio, ragazzi, è stata molto buona perché ha evitato tutto il bear market del 2021, 2021, mentre l'ultima ingresso, ancora lo dobbiamo vedere, vedremo che cosa sarà, ed è proprio questo qui. Ora, intanto, primo punto fondamentale, golden cross, è corretto calcolarlo con questi valori sui mercati di bitcoin? Ho fatto un video due anni fa dove spiego che la media mobile a 200 e a 50 periodi del mercato classico importarla su bitcoin non è correttissimo, non è che cambino i risultati, però, ragazzi, la media a 200 veniva utilizzata perché è il 75% dell'anno di un mercato classico, che dura circa 260 giornate di borsa aperta, mentre la media a 50 era il 75% dei tre mesi di borsa aperta. Quindi, nei mercati classici si sono presi questi dati perché avevano un significato, cioè il 75% dell'anno e il 75% del trimestre. Andiamo a incrociare queste due medie e vediamo quando il trend vira, rialzo e vira ribasso. Se dovessimo fare questo calcolo su bitcoin dovremmo utilizzare la media mobile a 274 giorni e la media mobile a 68 giorni perché bitcoin è aperto anche sabato e domenica. Quindi, oggettivamente, sarebbe più corretto andare a utilizzare questi dati. Ho fatto un video, magari ve lo linko qui su, vi fate due risate, è vecchissimo, di due anni fa, però andiamo a vedere cosa cambia. Andando a applicare la stessa cosa, intanto vi faccio vedere che, guardiamo solo sommariamente, qui c'è un profitto andando a utilizzare questo tipo di strategia e anche ho ricreato, diciamo, utilizzando solo un capitale fisso e non un capitale compound, quindi con l'effetto compound ho ricreato una struttura dell'equity curve che non è molto volatile, con un drawdown accettabile, intorno al 26%, ragazzi. Andiamo a vedere che cosa cambia utilizzando non quella a 250, quindi non il golden cross classico, ma il caimicross, come l'avevo definito scherzosamente, in quel video. Quello che cambia è che i profitti scendono leggermente, ma scende anche un po' il drawdown. In pratica non cambia praticamente quasi niente, semplicemente fa meno operazioni, ragazzi, e la vera, vera percentuale importante è questa qui. Cioè la percentuale di profitto aumenta notevolmente, perché passa al 50% rispetto a quella classica che è invece al 40%. Questo perché, ragazzi, fa più operazioni e le 5 operazioni che vedete qui, che fa di più il golden cross classico, sono tutte o sbagliate o con poco produttività. E quindi c'è una percent profitable che scende di 10 punti, un drawdown che aumenta di 4 punti percentuali, quindi del più o meno 20% del totale, ma il profitto netto non cambia. Quindi, in sostanza, mi conferma anche questo dato statistico, ovviamente i parametri utilizzati per il position sizing e il money management sono identici. Vi conferma ancora una volta questo dato che utilizzare 20-50 come golden cross per bitcoin non è il dato ottimale, ma è meglio utilizzare il scherzoso caimicross, cioè semplicemente la modifica delle medie mobili utilizzando quelle a 274 e a 68 giorni. Se non lo volete fare non vi cambia più o meno granché, però cosa succede? Se andiamo a utilizzare le medie mobili a 274 e a 68, questo golden cross non è ancora avvenuto, perché mentre qui è avvenuto, se io vado a modificare queste medie, ragazzi vi faccio vedere velocemente una modifica, non è avvenuto il golden cross. Quindi a questo punto dovremmo ancora un po' attendere, perché togliamo un po' quello che è la struttura qui del sistema, guardatelo qui dov'è, aspettiamo un altro po'. Ora, non che cambi granché abbiamo visto, ma stabilizza un po' di più un sistema e ci dice che forse per cantare vittorie dobbiamo aspettare un altro po' di giorni, cioè in pratica se io attivo quello che è il sistema con le medie mobili rettificate, vedete siamo ancora in short position e la long position non è avvenuta. Vedete anche qui tra short e long ha fatto un'operazione, due operazioni in meno rispetto alla golden cross, quindi è meno rumoroso sarei di dire rispetto al golden cross, ovvio che sia così anche perché abbiamo allungato le medie, quindi non è che diciamo mi risulti un risultato così strabiliante, niente di che. Però giusto per puntualizzare alcuni dettagli, ora ragazzi, golden cross avvenuto o il golden cross vero da attendere fra un paio di giorni, perché comunque avverrà ragazzi, a meno di crash repentini avverrà, questo potrebbe anche indicarci che magari dei dip di bitcoin in questa zona potrebbe essere dei buy, dei dip come ci siamo detti più e più volte. Allora questo golden cross eventuale se arriverà o quello standard ci porta a ragionare su un discorso. Quasi tutte quelle che sono state le fasi di long di bitcoin, vi rimetto il classico così ragioniamo sul classico, altrimenti ci andiamo a confondere e non voglio che avvenga a prescindere ragazzi. Allora questa zona qui ragazzi, vedete questi golden cross, sono stati profittevoli spesso tutti nella parte up, cioè quando il mercato va long. In effetti questo si vede anche se andiamo a fare nella lista, diciamo, delle operazioni, che i long sono molto più profittevoli e per esempio quelli che sono stati le operazioni, diciamo, in perdita long sono anche minori rispetto alle short. quindi short perse 5, long perse 4 e questo, vabbè, è interessante. Però le operazioni chiuse in vincita sono praticamente le stesse, 3 per i long, 3 per gli short, ma di poca entità. Questo ci porta una questione molto rilevante ragazzi, cioè le operazioni chiuse dal golden cross sono profittevoli, ma sono pochissime. Quindi questo significa che il risultato che noi otteniamo qui non è dato dal numero delle operazioni chiuse in positivo, ma è dato dall'entità delle operazioni, cioè dall'entità del rialzo. Quindi il golden cross è una strategia che è possibile utilizzare solo e unicamente in una fase in cui si ci aspetta che un mercato continui a salire e se funziona, quindi se noi siamo dal lato giusto in quel caso lì, aspettatevi un grande pump proprio perché i long quando vanno meglio sul golden cross vanno meglio perché il mercato poi entra in bull run. Questo è il concettualmente quello che volevo spiegarvi ed è molto interessante capire questa cosa perché andiamo a vedere negli ultimi periodi quello che è successo. Se andiamo ad analizzare l'ultimo bear market questo golden cross vedete ha avuto un esito positivo poi ovviamente la strategia vedete lo chiude in debt cross quindi nella parte bassa perciò a quel punto dovete ragionare ovviamente molto meglio chiuderlo qui in questa zona sulla zona dei massimi adesso vi faccio vedere anche quanto è il calcolo però è sempre positivo mentre sia questo qui sia quelli dopo che vediamo dopo non erano positivi quindi questo per esempio è stato un golden cross fake perché poi il mercato ha fatto un doppio minimo questo invece è il vero golden cross cioè quello che porta valore aggiunto a tutta l'operatività perché fa l'intera bull run anche questo golden cross vedete nonostante siamo andati up poi è andato down c'è da dire che però spesso a meno che a meno di queste situazioni vedete in un golden cross fatto così quindi di un ciclo che sostanzialmente sta per chiudere non per iniziare un golden cross fatto qui a quel punto è poco produttivo ma se il ciclo sta per iniziare in ciclo annuale intendo ragazzi in quasi tutti i casi abbiamo dei buoni up in questo caso qui abbiamo avuto un up intorno al cento cinquanta per cento in questo caso neanche ve lo mostro perché si tratta veramente di up stratosferici anche questo nonostante sia stato un golden cross non profittevole perché la macchina lo segna come una perdita in realtà era un golden cross che è iniziato sempre da un nuovo annuale che era iniziato qui a luglio duemilaventuno perciò anche questo golden cross va considerato più quarantatré per cento quindi in un modo o nell'altro ragazzi da questa struttura se siamo in un nuovo annuale dal golden cross statisticamente possiamo aspettarci che il mercato un quaranta per cento lo vada a fare e quindi in una circostanza del genere possiamo andare a tirarci su quello che è magari un eventuale target che dovrebbe essere intorno ai 32 35 mila dollari di arrivo se questo golden cross conferma sia l'inizio di un nuovo ciclo annuale sia l'inizio di una nuova fase anche se non siamo nella bull run ma se siamo diciamo in cicli più piccoli come quelli che sono dei cicli quindi un annuale per esempio come questo qui che addirittura ha fatto 100 di più era 160 questo ragazzi ve lo dico alla buona sì 160 per cento ma anche in un annuale che addirittura poi è stato ribassista come questo qui che è stato un annuale terribile ha fatto comunque un 50 per cento 50 per cento dal golden cross che teoricamente ci porta in questa zona quindi è possibile per bitcoin raggiungerlo se siamo in un nuovo annuale dal novembre 2022 è possibile raggiungere questi target questo otteniamo da questi dati di natura oggettiva non opinabile se invece siamo ancora in un annuale ribassista no perché come abbiamo visto negli annuali ribassisti bitcoin a volte fa dei golden cross che sono dei fake quindi questa strategia è giusta utilizzarla sì ma va accostata a quelli che sono altri tipi di analisi come ad esempio l'anese ciclica che in un contesto del genere ci viene fortemente incontro e vi dà un grande valore aggiunto allora siccome questo tipo di fase ci pone un po' il dubbio e noi sappiamo che sopra 25-26 mila dollari siamo in un nuovo ciclo annuale possiamo impostare un'operatività in buy the dip e lasciarla open e poi se andiamo nel nuovo ciclo annuale sappiamo quale target price come primo livello magari bitcoin potrebbe raggiungere diciamo in maniera probabile ecco diciamo così poi andremo a guardare un po' tutto che ve ne pare mi piace sì o no io ci scommetterei lo rilancio la moneta la rilancio la miseria la rilancia niente oggi va bene per oggi è tutto noi ci rivediamo nel prossimo video ciao ciao